Nuovo primario di chirurgia all'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, si tratta di Antonio Piazzini Albani, 50 anni di Bergamo. A presentarlo ieri pomeriggio sono intervenuti Amedeo Amadeo e Bruno Zanzottera, rispettivamente direttore generale e direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Bolognini di Seriate. Piazzini ha operato al San Marco di Zingoni, al Policlinico di Ponte San Pietro, all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, ai riuniti e dal gennaio 2010 al Bolognini di Seriate. Sono onorato dell'incarico, avrò ottimi collaboratori, ha commentato nel suo intervento. Un traguardo estremamente importante perché dopo un anno che lavoro in questa azienda e quindi ho avuto modo di provarne la consolidata validità, raggiungere il traguardo di essere uno dei responsabili di una delle unità funzionali di chirurgia generale, è un grande, grande traguardo. Le aspettative sono quelle che, visto che questa azienda ospedaliera ha distribuito sul territorio con un ampio raggio, il poter portare il contributo della chirurgia generale, quindi unificare anche le forze, le strategie, dall'ospedale maggiore che può essere quello di Seriate, ridistribuendolo su tutto il territorio della valle. Abbiamo raggiunto un buon livello ma adesso, specie in previsione del nuovo ospedale, dobbiamo rimettere in rete ancora meglio tutti quelli che sono i nostri ospedali per dare a ciascuno la sua dignità e per poter insieme costruire un percorso per tutti i nostri malati, sia quelli che vengono dalla periferia, sia quelli che vengono dal centro.